Il sagno trema ancora ma le scuole riaprono, nuova scossa nel Beneventano, resta l'allerta dopo lo sciame sismico di ieri, negative le verifiche statiche negli edifici scolastici si torna regolarmente in classe ma resta la preoccupazione per la sicurezza del Ponte Morandi Aversa, Crolex, scuola rifugio De Closciard, tragedia sfiorata nella centrale piazza Marconi è venuta giù un'ala dell'edificio da tempo abbandonato e utilizzato dai senza tetto nella zona c'è il mercato di Natale, trafficato di sera, fortunatamente il crollo è cessato all'alba Terra dei fuochi lite sullo studio shock dopo la presentazione dell'indagine di un gruppo di ricercatori capeggiati dal professore Giordano, scoppia la polemica, nessuna validità scientifica così si crea solo allarme, accusa il direttore dell'istituto zoo profilattico Antonio Limoni Sfregio a Montevergine, offesa la Madonna, rabbia e dolore nel santuario di mamma schiavona per il furto degli ex voto nel museo, l'appello ai microfoni di 696 TV dei padri benedettini a restituire i preziosi trafugati, in ignazione tra i fedeli che dicono ferita al cuore la nostra Madonna Regione, Carfagna si schiera con Mastella, Salerno per il brindisi natalizio con gli iscritti di Forza Italia la parlamentare ribadisce, stimo Caldoro ma per sfidare De Luca alle prossime regionali servono nomi nuovi che mettano d'accordo il partito gli apre all'ipotesi primaria è lanciata da Mastella Pranzo di Natale per 250 poveri, a Napoli stavolta è consueto appuntamento il pranzo di Natale si è svolto fuori dal Teatro San Carlo nella galleria che durante tutto l'anno diventa la casa di molti clochard gli organizzatori spiegano volevamo regalare una giornata diversa a queste persone Erano questi i nostri titoli, buonasera e ben ritrovati con l'informazione del canale 696 in apertura di questa edizione del nostro telegiornale lo avete appena sentito dei titoli nel Sannio restalta la guardia per le continue scosse sismiche registrate anche nel pomeriggio di oggi intanto sul fronte delle verifiche statiche negli edifici scolastici non sono emerse criticità particolari e quindi da domani si torna in classe trema ancora la terra nel Sannio da ieri sono oltre 20 i movimenti registrati dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oltre 60 nell'ultimo mese i movimenti tellurici nel Sannio ora allo studio degli esperti l'ultima scossa alle 14.02 di oggi ancora con epicentro a San Leucio del Sannio di magnitudo 2.7 oggi sono rimaste chiuse le scuole a Benevento in numerosi centri della provincia dove per tutta la giornata sono proseguiti i controlli tecnici da parte di provincia comune e vigili del fuoco stiamo facendo dei sopralluoghi presso gli edifici scolastici per verificare se il sisma ha prodotto dei nuovi effetti la volontà di questi sopralluoghi non è quella di verificare in questo momento l'agibilità o la sicurezza strutturale dell'immobile perché non sarebbe così immediata andrebbe fatto uno studio che comunque già viene fatto perché gli edifici sono monitorati oggetti di continui interventi di adeguamento però noi visivamente verifichiamo se c'è la presenza di segni evidenti di dissesto è emerso qualcosa in queste ore? no, io per il momento ho verificato due istituti il Guacci e l'industriale e non sono emerse nessune problematiche particolari resta attivo il centro operativo comunale che continuerà a monitorare costantemente la situazione pronto a mettere in atto le misure previste dal piano comunale di protezione civile nel caso di allarme sismico Aversa crolla l'ex scuola Cimarosa in piazza Marconi la struttura era abbandonata da anni l'area è stata transennata fortunatamente non ci sono feriti il palazzo era spesso usato come riparo dai senza tetto tragedia sfiorata all'alba di oggi nel centro storico di Aversa intorno alle 5 è crollata l'ex scuola Cimarosa in piazza Marconi la struttura si è sgretolata è rimasta in piedi solo una porzione di muro dove c'erano le stanze e ora ci sono le porte che affacciano sul vuoto una tragedia sfiorata se non fosse accaduto all'alba ma di giorno avrebbe potuto fare una strage l'ala della struttura crollata si trova ai lati di piazza Marconi la storica piazza Mercato molto frequentata dove in questo periodo si tengono anche i mercatini di Natale una tragedia sfiorata perché tutte le sere per cagare le macchine la mattina passa la gente i bambini che vanno a scuola e le scuole stanno qua intorno troppo l'inguglia è questa abbandonata e questi sono i risultati l'hanno abbandonato senza sapere alla fine che doveva fare questo fabbricato già non era adagibile da molti anni e non hanno preso mai provvedimento a questa situazione fortunatamente è stato alle 5 di mattina che se succedeva l'area di punta succedevano molti morti purtroppo se non cadeva così non veniva buttato mai a terra sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per i controlli e la messa in sicurezza insieme ai carabinieri e alla polizia municipale e la zona è stata transennata i soccorsi hanno appurato che tra le macerie non c'era nessuno il palazzo è infatti spesso usato come riparo dai senza tetto terra dei fuochi e tumori dopo la presentazione dello studio di un gruppo di ricercatori capeggiati dal professore Giordano scoppia la polemica questo studio manca di rigore metodologico accusa il direttore dell'istituto zooprofilattico Antonio Limone ha suscitato molte polemiche lo studio Veritas condotto su alcuni malati di tumore di Giuliano in provincia di Napoli nell'area della cosiddetta terra dei fuochi che ha evidenziato un'anomala presenza di metalli pesanti nel sangue di pazienti oncologici lo studio è stato condotto da Antonio Giordano direttore dell'istituto sbarro di Filadelfia insieme ad Iris Maria Forte del Crom di Mercogliano struttura di ricerca satellite del Pascale secondo Antonio Limone direttore generale dell'istituto zooprofilattico del Mezzogiorno si tratta di uno studio senza nessun rigore scientifico che crea solo panico e cattiva informazione io sono un direttore generale di un ente che ha coordinato una ricerca che si chiama SPES e che parte dal presupposto di avere una correlazione ambientale che questo studio invece non ha allora quando parliamo di questa storia rispetto alla terra dei fuochi lo dobbiamo fare con dei presupposti scientifici e metodologici che io in questa ricerca non ho visto sono stati presi 100 persone e a queste persone tra sani e malati gli è stata fatta una serie di attività gli sono state fatte delle attività analitiche ora noi abbiamo 5.000 pazienti persone, non pazienti perché noi abbiamo indagato persone che erano sane e questo studio di correlazione si doveva appoggiare su ben altre basi scientifiche abbiamo indagato 20 metalli, non 4 che fai quando trovi una criticità ambientale? per esempio abbiamo indagato circa 150.000 pozzi ho l'impressione che 50 enti di ricerca pubblici abbiano una voce in capitolo la mia attività di ricerca è svolta insieme all'Istituto Superiore di Sanità al CNR, all'Enea, al Pascale, alla Federico II a molte altre università credo che tutto questo ha un senso e allora se ce l'ha questo senso dobbiamo procedere con un metodo scientifico rigoroso lasciamo da parte l'agone politico perché siamo in campagna elettorale e questo non giova perché se mettiamo al centro la salute del cittadino campano allora tutte queste barriere non servono più e adesso parliamo del furto a Montevergine tra fugati gli ori della Madonna il dolore della comunità benedettina e dei fedeli chi ha rubato i ori della Madonna di Montevergine da una teca del Museo del Santuario conosce bene i luoghi, le abitudini della comunità monastica gli orari di apertura e chiusura degli ambienti espositivi la porta in legno non presenta segni di effrazione allarme e video sorveglianza sarebbero in funzione solo di notte ma i nuovi filmati di altre telecamere potrebbero fornire elementi utili sotto shock e profondamente addolorato il direttore del museo Don Giovanni Gargiulo come tanti fedeli e devoti di mamma schiavona è una ferita che si dà alla comunità, al santuario alla Madonna di Montevergine propriamente perché gli ori che sono stati rubati è roba di non grandissimo valore ma di grande valore affettivo e devozionale e questa è la cosa che fa più male con un esame di coscienza magari avere il gesto di lasciarli anche in forma anonima trovarli fuori la chiesa ci speriamo magari furto sacrile è qualche cosa di indegno per un essere umano fa male il cuore perché comunque è un posto religioso un posto in cui vengono persone da tutta la regione anche da altre parti dispiace molto diciamo fa male perché poi è pure è ora antico ora di tanti anni diciamo che non va bene e quando mai a Montevergine hanno fatto questo questo scatto non lo so andare a rubare le cose della Madonna di Montevergine per noi è un dramma è una pugnalata al cuore intanto l'ex parlamentare madrina della Candelora Vladimir Luxuria lancia un appello alla comunità LGBT per donare nuovi preziosi in segno di fede e nuova speranza posso fare un appello a tutte le mie amiche trans, gay e lesbiche che anche il prossimo anno il 2 febbraio andranno da mamma schiavona per la Candelora ognuna di noi per quello che può porti un piccolo oggetto d'oro da donare a mamma schiavona per chiederti scusa mamma schiavona da parte loro ancora cronaca si è tolta la vita nel bagno della stazione della metro a Flaminio di Roma la soldatessa trentenne che questa mattina alle 8.45 circa si è sparata con un'arma in dotazione a dare l'allarme una collega la soldatessa si chiamava Caterina Glorioso originaria di Vitulazio in provincia di Caserta aveva trent'anni ed era nell'esercito da cinque anni di recente era in forza l'operazione strade sicure nel raggruppamento Lazio-Abruzzo a Salerno per il Brindisi natalizio con gli iscritti di Forza Italia Mara Carfagna ribadisce stimo Caldoro ma per sfidare De Luca le prossime regionali servono nomi nuovi che mettano d'accordo il partito e apre all'ipotesi primare lanciate da Mastella vediamo il servizio la mia associazione aiuterà il dialogo e non sarà un elemento di divisione ma in vista delle regionali è necessario in un momento non facile per il partito un cambio di passo che vada oltre il nome di Stefano Caldoro per sfidare De Luca Mara Carfagna nel tradizionale Brindisi natalizio con Forza Italia a Salerno esprime a chiare lettere il suo punto di vista verso il voto per Palazzo Santa Lucia e apre all'ipotesi primarie così come proposto dal sindaco di Benevento Clemente Mastella non c'è un veto su Caldoro tra l'altro Caldoro è un candidato che io ho sostenuto con convinzione sia nel 2010 sia nel 2015 c'è una parte di partito che crede che bisogna uscire fuori dalle vecchie logiche e dai vecchi schemi c'è una parte di partito che crede che bisogna rinnovare che bisogna offrire agli elettori campani dinamiche nuove sarebbe la terza sfida Caldoro De Luca i cittadini probabilmente gli elettori chiedono anche di poter fare delle scelte nuove diverse invece l'ipotesi delle primarie come pure chiedono alcuni componenti del partito cito per tutti il sindaco di Benevento Mastella può essere una soluzione per compattare un po' e mettere tutti da conto no io non sono contrario alle primarie anzi io sono stata una delle prime fautrici di questo strumento che credo sia utile per coinvolgere il nostro popolo e penso che lo sarebbe anche in questa occasione quindi io non sono pregiudizialmente contrario naturalmente andrebbero organizzate bene per evitare condizionamenti infiltrazioni di vario tipo però diciamo è sicuramente potrebbe essere uno strumento utile ancora la politica dopo l'incontro con il segretario nazionale Nicola Zingaretti che si è tenuto presso la sede del PD a Roma il consigliere regionale della campagna Maurizio Petracca ufficializza la sua adesione al partito democratico Petracca entrerà quindi nel gruppo consigliare del PD presso il consiglio regionale della campagna un'evoluzione naturale del mio percorso politico che ha trovato il suo riferimento più saldo nel centro-sinistra dichiarato il consigliere Petracca avrei potuto fare una scelta diversa di convenienza quella del civismo aggiunge ma sono dell'idea che la politica abbia ancora bisogno dei partiti il segretario Zingaretti in una nota ufficiale dal benvenuto al consigliere Erpino la sua come quella di altri parlamentari amministratori che in queste settimane si stanno iscrivendo al PD è una scelta di camponetta in favore dell'unico soggetto politico che rappresenta il baricentro di un'alternativa riformista progressista ed europeerista rispetto alla destra populista e sovranista dice Zingaretti non possiamo che essere soddisfatti per questa importante decisione di Maurizio Petracca che andrà ad arricchire il gruppo consigliare del PD in campagna e che ne sono certo contribuirà ad aprire le porte del partito a nuove energie a nuovi contenuti a nuove proposte in sintonia con il percorso che abbiamo già avviato negli scorsi mesi conclude il segretario del PD Pranzo di Natale in Galleria Umberto I a Napoli il consueto appuntamento del pranzo di Natale al Teatro San Carlo quest'anno si è infatti svolto fuori al massimo partenopeo nella galleria che durante tutto l'anno diventa la casa di molti clochard vediamo per un giorno la Galleria Umberto di Napoli di fronte al Teatro San Carlo si è trasformata in una grande sala da pranzo per regalare un po' di festa ai senza fissa di mora e ai poveri che vivono nelle strade di Napoli è stato allestito qui infatti il pranzo della solidarietà Natale a Santa Brigida promosso dai ristoratori di Via Santa Brigida con la collaborazione della Caritas Decanale Caritas Terza Decanato e Teatro San Carlo il pranzo è patrocinato e coordinato dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli che ha fornito i materiali per allestire i tavoli oltre alle necessarie autorizzazioni 250 le persone che hanno preso parte al pranzo il cui menù è stato antipasto di bruschetta al pomodoro primo pasta di fagioli e frutti di mare secondo con salsicce e patate sushi e per finire come dolce i fiocchi di neve ad agliatare il pranzo dei Senza Fissa di Mora un piano e il coro del Teatro San Carlo che hanno regalato loro alcune aree di opera e tradizionali canti natalizi è un appuntamento fisso ormai da anni e quest'anno abbiamo un po' invertito nel senso che il San Carlo a venire fuori per donare un po' di bello un po' di calore ai nostri fratelli meno fortunati i nostri poveri non mangiano solo a Natale quindi ogni anno diamo la biancheria per le docce biancheria intima pantaloni scarpe quello che possiamo quello che ci portano e noi contribuiamo è una goccia nell'oceano però siamo a disposizione si levano le polemiche nel sagno per il rinvio dei lavori per il raddoppio della statale 372 Telesina lo sconcerto di Mastella si associano Oliverini e Di Maria che fanno appello al governo ma la senatrice del Movimento 5 Stelle Ricciardi afferma nessuno stop al progetto vediamo è stato rinviato l'esame che oggi doveva essere all'ordine del giorno dell'ANAS per quanto riguarda gli investimenti per la seconda corsia del Benevento Cajanello che poi si ferma fino a stanza Rotteresino l'annuncio di Mastella sul rinvio dell'iter per i lavori del raddoppio della statale 372 Benevento Cajanello ha spiazzato tutti il sindaco ha manifestato il suo rammarico per uno stop al progetto determinato da problemi interni all'ente nazionale per le strade immediate le polemiche il presidente di Confindustria Filippo Liverini sconcertato per la notizia scritto al ministro alle infrastrutture Paola De Micheli invitandola a rivedere la decisione alla ministra De Micheli anche il presidente della provincia di Benevento Antonio Di Maria Gela tutti invece la senatrice pentastellata Sabrina Ricciardi sulla telese Cajanello Mastella continua a fare inutile allarmismo le notizie diffuse non hanno fondamento né veridicità non c'è stato alcun rinvio della telesina si discuterà il 20 dicembre attendiamo quella data prima di sparare sentenze ed evitiamo pericolose fughe in avanti poi attacca Mastella non può utilizzare la conferenza stampa per il terremoto per diffondere una fake news sulla telese Cajanello lui ama le uscite ed effetto adora fare sensazionalismo si alimenta di protagonismo ma conclude Ricciardi sappia che gli stiamo addosso metteva a disposizione il proprio campionario sul web poi raccoglieva gli ordini via social poi con un corriere espresso la merce con marchi falsi e spacciata per originale veniva fatta ricapitare in tutta Italia ma solo dopo aver ricevuto i pagamenti tramite ricariche di carte di credito prepagate quattro persone sono state denunciate in Irpinia i finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto e sequestrato a Monteforte Irpino una fabbrica clandestina sconosciuta al fisco dove venivano confezionati capi d'abbigliamento e accessori con marchi contraffatti di note griffa di moda le fiamme gialle hanno sequestrato anche 1300 abiti e accessori 15.800 transfer termoadesivi ed etichette stoffe in metallo con i loghi e marchi falsi di griffa famose sequestrati anche 2.250 capi d'abbigliamento neutri pronti per essere marcati e confezionati del valore complessivo di oltre 130.000 euro sono 42 operatori del consorzio Salerno 2 impiegati nel settore rifiuti senza stipendi ormai da 8 mesi scatta la protesta a Salerno lavoratori e sindacati in presidio davanti al comune si sblocchino le risorse vediamo il servizio senza stipendio da 8 mesi in protesta gli operatori del consorzio Salerno 2 impiegati nel settore dei rifiuti presidio davanti alla sede della provincia affiancati dalle sigle sindacali una lotta che è proseguita al comune di Salerno dove i manifestanti hanno incontrato il capo staff del sindaco Vincenzo Napoli chiedendo di sbloccare le risorse noi chiediamo che questi 108 mila euro non vengono dati al consorzio ma vengono pagati direttamente ai lavoratori in applicazione del codice 1616 poi chiediamo al comune di spingere nei confronti dell'Eda affinché si faccia una riunione chiarificatrice e ci sia e si verifichi la possibilità della ricollocazione noi in verità due settimane fa facemmo l'incontro alla provincia con il vicepresidente Stanziola il quale si assunse l'impegno di convocare brevissimamente i 40 sindaci che erano soci del consorzio tra cui anche il comune di Salerno ad oggi la convocazione non è venuta beh questa è una cosa che stiamo verificando ma probabilmente non può essere fatta perché le somme i 108 mila euro dell'ultima fattura che il comune avrebbe dovuto pagare al consorzio non è oggetto di pignoramento però il consorzio ad oggi non ha il DURC in regole ovviamente il comune di Salerno come al solito sta valutando tutte le possibilità per garantire non solo come dire i livelli occupazionali come fa solitamente ma anche quindi che il personale venga retribuito per l'attività che ha svolto Reggio il nuovo piano de bus ad Avellino questa mattina anche lungo via Capozzi strada che conduce al mercato bisettimanale nessun disagio l'ex assessore alla mobilità Giuseppe Bruno promuove l'iniziativa di festa ma boccia il metodo vediamo funziona il nuovo piano dei trasporti in città la prova del 9 sul traffico e disagi si è avuta questa mattina in concomitanza con il mercato bisettimanale nessuna difficoltà è stata riscontrata via Enrico Capozzi era libera dal caos i pullman questa mattina presto erano parcheggiati lungo la strada che conduce al piazzale dello stadio il mercato si è svolto regolarmente dunque il piano del comune regge anche l'assessore comunale alla mobilità Giuseppe Bruno è d'accordo con il sindaco festa con il dislocamento dei bus anche se critica il metodo appena si fanno delle modifiche delle variazioni delle innovazioni si crea un coro di reazioni e di proteste che favorirebbe l'immobilismo il sindaco fa bene a mettere in discussione alcuni principi quali per esempio la localizzazione del mercato la stessa localizzazione del terminal certo le cose si possono fare in maniera tale che si possa migliorare o si possa peggiorare una scelta del genere poteva essere fatta sicuramente in maniera migliore più attenta e anche offrendo un minimo di servizi che possa ridurre il disagio andiamo a Benevento ora dove è partita la gara per l'affidamento dei servizi di progettazione del depuratore cittadino e tre impianti sono stati presentati dal commissario governativo alla depurazione Enrico Rolle oggi nel Sannio sono finalmente arrivati per il Sannio i fondi per la costruzione degli impianti di depurazione che a Benevento sono assenti attesi da decenni questa mattina in comune è stato il delegato del governo il commissario Enrico Rolle a svelare i dettagli e le fasi della progettazione che sarà affidata nelle prossime settimane ai tecnici questa soluzione è articolata su due impianti che sono stati per ora localizzati in area San Clementina e Cimitero e un altro impianto centralizzato più grande in Sant'Angelo a Piesco questa soluzione è stata però sottoposta al vaglio delle amministrazioni interessate quindi la giunta del comune di Benevento si è espresso in maniera favorevole la settimana scorsa all'inizio della scorsa settimana è stato pubblicato il bando per la progettazione presenti in sala anche i rappresentanti di alcuni comitati di zona contrarie all'installazione di uno degli impianti a Contrada Santa Clementina ma dal commissario arrivano le rassicurazioni quando ho indicato che il progettista è incaricato naturalmente di fare degli approfondimenti gli approfondimenti riguardano anche i vincoli che gravano su queste aree soddisfatto il sindaco Mastella che rivendica la propria azione per sbloccare le impasse in cui versa la città di Benevento oggi finalmente arriviamo ad un esito il primo esito che dà la scala che va in discesa per cui arriveremo ad un esito che sarà quello per il quale Benevento finalmente avrà il depuratore sono tanti gli enti e le istituzioni che hanno partecipato a questa fondamentale opera per la città e per i cittadini Benevento Salerno sarà una pista aggiuntiva di Napoli con tutte le ripercussioni positive del caso così ad Otto Channel Andrea Prete traccia le sfide dopo la fusione con Capodichino e Annunce lavori per l'allungamento della pista partiranno in estate senza il contributo determinante della regione ma anche dei circa 20 milioni di euro investiti in questi anni dalla Camera di Commercio non staremo qui a parlare della grande opportunità dettata dall'aeroporto di Salerno è il messaggio che il presidente Andrea Prete consegna all'indomani dell'indicazione al rappresentante unico di Salerno nel consiglio d'amministrazione di GESAC e al microfono di Otto Channel 696 il presidente della Camera di Commercio illustra anche la tempistica e le opportunità legate alla fusione tra Napoli Capodichino e il costa Damalfi GESAC ha come progetto principale dopo essere cresciuto l'aeroporto di Napoli in maniera esponenziale negli ultimi anni una volta che saranno raggiunti e probabilmente non lontani i 12 milioni di passeggeri è ovvio che loro stanno valutando in maniera importante la seconda pista perché il ragionamento che si fa in GESAC è che Salerno è la seconda pista dello stesso aeroporto il prolungamento della metropolitana da Salerno fino all'aeroporto di Salerno costa Damalfi che vi assicuro non è poca cosa non tutti gli scali hanno la metropolitana che gli arriva praticamente dentro lì c'è la fortuna già di avere la linea ferroviaria che costeggia il sedime aeroportuale però noi per avere una metropolitana che arriva in aeroporto in Italia c'è giusto Malpensa e Fiumicino i lavori partiranno appena i bandi sono in corso e entro il 2002 anni dovremo essere operativi per ampliare finalmente quest'aeroporto e renderlo fruibile i tecnici di GESAC sono all'opera e hanno tutto l'interesse di fare il prima possibile Ad Avellino ora dove oggi è stato sottoscritto all'ASL il protocollo operativo per l'integrazione scolastica per i bambini autistici ci vediamo un passo in avanti per i bimbi autistici il giorno dopo il caso del bambino autistico escluso dalla recita natalizia in una scuola del napoletano ad Avellino oggi è stato firmato il protocollo operativo per l'integrazione scolastica degli studenti disabili affetti da autismo il protocollo è stato firmato questa mattina nella sala pastore dell'ASL di Via degli Inbimbo con questo protocollo l'obiettivo che ci poniamo è appunto quello di garantire un percorso educativo univoco per i bambini i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico quindi garantire il diritto allo studio quindi abbiamo immaginato un percorso dove non è soltanto la semplice sottoscrizione di un protocollo ma bensì l'impegno pubblico affinché ognuno svolga il proprio ruolo in maniera efficiente ed efficace affinché questi bambini non siano mai ultimi ma che li possiamo accompagnare dall'età dai zero anni fino all'età adulta io ritengo che oggi è una giornata importante perché finalmente le istituzioni si sono messe insieme le associazioni stanno condividendo questo percorso quindi diciamo che non sono soltanto chiacchiere ma finalmente possiamo parlare di fatti quindi andremo a concretizzare quello che è l'obiettivo che tutti da tanto ci stavamo aspettando era questo il nostro ultimo servizio questa edizione del nostro telegiornale termina qui io vi lascio alle previsioni meteo e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti